Scandalo, J-Ax contro Fedez per dichiarazioni shock. L'ultima bordata di J-Ax contro Fedez ha scosso il mondo della musica italiana, riaccendendo vecchie tensioni tra i due rapper. Dopo anni di amicizia turbolenta e collaborazioni artistiche di successo, le parole di J-Ax sembrano aver riaperto ferite mai del tutto sanate. La storia di un'amicizia complicata. J-Ax e Fedez hanno condiviso un percorso musicale che li ha visti spesso uniti sul palco e nelle classifiche. Tuttavia, la loro amicizia ha attraversato momenti difficili, culminati in una separazione che sembrava definitiva. La malattia di Fedez aveva offerto un'opportunità di riconciliazione, con i due che avevano persino organizzato un concerto benefico insieme. Mostrando al pubblico un rinnovato spirito di collaborazione. Ma sembra che dietro le quinte le cose non fossero così serene. Le dichiarazioni di J-Ax. In una recente intervista, J-Ax ha sottolineato l'importanza di mettere la famiglia al primo posto, specialmente dopo essere diventato padre. Non ho rispetto per chi continua a vivere una vita spericolata nonostante le responsabilità familiari. Ha dichiarato. Queste parole sembrano un chiaro riferimento a Fedez, noto per il suo stile di vita spesso al centro delle cronache. J-Ax ha poi cercato di chiarire le sue dichiarazioni, affermando che le testate online hanno frainteso il suo messaggio. Tuttavia, ha ribadito che la famiglia e i figli devono essere la priorità assoluta e che le responsabilità di un padre e di un uomo non possono essere messe in secondo piano. Ha inoltre criticato coloro che vivono in modo dissoluto nonostante abbiano una famiglia da mantenere. Sottolineando che la depressione è una malattia seria che deve essere curata con l'aiuto di professionisti. Al momento, Fedez non ha risposto pubblicamente alle dichiarazioni di J-Ax. Tuttavia, l'aria è palpabilmente tesa tra i due, e il pubblico attende con interesse eventuali sviluppi. Fedez, che è sempre stato molto aperto riguardo alle sue battaglie personali e alle sue scelte di vita, potrebbe scegliere di rispondere per difendere il proprio punto di vista e le proprie azioni. Le parole di J-Ax hanno sollevato una questione fondamentale. Quali sono le vere priorità nella vita di un artista? La famiglia e i figli devono venire prima di tutto, come sostiene J-Ax? O è possibile conciliare una carriera intensa e uno stile di vita pubblico con le responsabilità familiari? Questa controversia non riguarda solo J-Ax e Fedez, ma riflette un dibattito più ampio su come le figure pubbliche gestiscono le loro vite private e le loro responsabilità. La reazione del pubblico e degli altri artisti potrebbe influenzare il modo in cui questi temi vengono discussi in futuro. La faida tra J-Ax e Fedez ha riacceso vecchie tensioni e sollevato importanti domande sulle priorità nella vita di un artista. Mentre il mondo della musica italiana osserva attentamente, resta da vedere se i due riusciranno a trovare un terreno comune o se questa sarà solo l'ultima di una serie di controversie. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi su questa vicenda che continua a catturare la attenzione del pubblico. Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campagna.